Maurizio Capri, Presidente dell'Ordine degli Avvocati dell'Aquila, chiedete insieme ai colleghi del resto d'Abruzzo, ma di tutto il Paese, il ritorno dell'attività giudiziaria in termini ordinari, quindi in presenza per i processi e gli uffici operativi. Sì, effettivamente è così, siamo arrivati al punto che adesso si sta riaprendo tutto in Italia e sembra giusto che si riaprano anche gli uffici giudiziari, perché come potete vedere purtroppo non solo all'Aquila ma in tutta Italia gli uffici giudiziari sono ancora accessibili in modo molto limitato e soprattutto le udienze stendano ad attivarsi. Questo ovviamente con grave documento sia per gli avvocati ma soprattutto per i cittadini, perché sappiamo benissimo che la tutela dell'azione giudiziaria per i cittadini è una tutela garantita dalla Costituzione ed è giusto che in qualche modo si riprenda tutti gli effetti. Può in qualche modo essere falsato il giudizio finale di un eventuale processo svolto da remoto? Si può giungere a conclusioni magari falsate? Ma guardi, per quanto riguarda i processi da remoto noi ovviamente come avvocatura siamo sostanzialmente contro. Diciamo che in questa fase il rischio di essere falsato non c'è perché il processo da remoto è stato ammesso soltanto per alcune tipologie di udienze che sono quelle dove non si assumono testimonianze, dove non si assumono consulenze tecniche o quant'altro, quindi diciamo che sono degli adempimenti abbastanza rituali che certamente non vanno a compromettere l'esito del giudizio. È ovvio che in una prospettiva, se le cose dovessero persistere in questo modo, il rischio di qualche problematica in tal senso potrebbe avvenire. Avvocato Silvana Vassalli dell'Ordine di Lanciano, che è una zona di frontiera, si può dire dal punto di vista della criminalità, anche lo abbiamo visto nel corso degli anni, questa amministrazione della giustizia rischia di compromettere l'affermazione della giustizia stessa? Sì, nel senso che al di là di quelli che possono essere i problemi di natura penalistica sono certamente rilevanti e con tutte le ripercussioni di natura sociale, ma il pensiero maggiore deve correre intorno all'economia, perché noi non possiamo dimenticare che la zona abruzzese, che è sede di grandi industrie a livello internazionale, combattute di arresto a livello di giustizia, potrebbe portare anche dei danni al settore economico, industriale, artigianale, turistico, che per noi abruzzesi sono indubbiamente prioritari come interesse. Giustizia, scuola, sanità sono i capisaldi di uno Stato e se noi fermiamo questi capisaldi o quantomeno non investiamo su questi capisaldi, diciamo che lo Stato non adempia completamente i propri doveri nei confronti dei cittadini. L'attività lo abbiamo visto sta riprendendo seppur a singhiozzo, è demandata la discrezione di ciascun tribunale, come funziona? No, allora sicuramente l'essere piccolo e il nostro è un distretto diciamo piccolo rispetto ai grandi tribunali che sono in Italia, favorisce. Avere delle strutture efficienti e moderne, tipo l'Aquila, tipo Pescara o tanti altri, i nostri, Vasto, Lanciano, Sulmona, ha favorito una ripresa in presenza nel penale e quindi con una ripresa graduale ma che adesso sta diventando stabile e aumenta. Nel civile il cartolare, cioè lo scambio di documenti cartacei con l'amministrazione della giustizia è stato proficuo, il problema reale è l'accesso agli uffici perché per evitare assembramenti negli uffici, nelle cancellerie, per rispecchiare sicuramente il diritto alla salute degli impiegati ma anche il diritto del cittadino ad avere accesso al proprio fascicolo, al proprio documento, beh questo penalizza un po' tutti. Che soluzione si potrebbe trovare? Potrebbe essere la svolta magari anche per un ammodernamento, una digitalizzazione? No, allora sicuramente questo periodo di pandemia ha messo in evidenza quali sono i ritardi dello Stato nella giustizia e da anni, almeno un decennio, che si sta parlando di digitalizzazione e questo doveva essere il momento per investire su questo ma non per tirar fuori le persone fisiche, avvocati o cittadini dagli uffici ma per velocizzare l'attività amministrativa di un ufficio e questo è un investimento economico che deve necessariamente essere fatto oltre a riempire le carenze di organico che ormai sono decennali nell'interno degli uffici gli impiegati sono pochi, quei pochi sono metà in presenza, metà in smart working e quindi è inevitabile che si creano dei ritardi nell'amministrazione della giustizia senza cancelliere, senza avvocati, il magistrato può fare ben poco Avvocato Colucci, al netto di tutto quello che è stato detto c'è da far considerare alle istituzioni e alla politica che tra l'altro sta dibattendo di un'eventuale proroga al 2021 del processo remoto che la categoria degli avvocati dovrebbe essere ascoltata Beh, non fosse altro per i meriti che abbiamo acquisito sul campo, diciamo così, in questo periodo perché come è bene ribadire la categoria degli avvocati è stata l'unica categoria che in tre mesi non ha lavorato è quella che realmente ha sopportato il peso del cosiddetto lockdown e almeno per questo dovrebbe essere ascoltata seppur in ambito regionale, distrittuale lo è, diciamoci la verità però le considerazioni che svolge la categoria vanno considerate un po' più da vicino per esempio il processo da remoto può essere una cosa buona ma va studiato da parte di tutti le categorie professionali non solo dei magistrati o dei dipendenti pubblici Ci sei arrivati impreparati, così come penso alla scuola con la didattica a distanza si è notato un vulnus anche nella giustizia Veramente il processo telematico già dal 2014 era stato introdotto nel mondo giustizia però quello è un discorso e il processo da remoto è un altro quindi bisogna un po' considerarle da vicino queste situazioni per adeguarle alla realtà locale, alla realtà odierna quindi ma assentendo tutti i partecipanti al mondo giustizia e mi compreso la categoria degli avvocati che è quella che ne soffre di più degli altri Grazie Grazie Grazie